Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, pagina politica in apertura del notiziario. Il giorno dopo le dimissioni presentate da due dei tre assessori del partito dei siciliani, ex MPA Fortunato Ferracane e Giuseppe D'Aleo, parla il sindaco di Gela, Angelo Fasule. Il primo cittadino parla di tradimento, per anni ha detto il primo cittadino, ho avuto al fianco questo tipo di alleati senza rendermene conto, sono sorpreso. Il sindaco pensa ai sostituti, spero che dietro tutto questo non ci sia l'interesse dell'onorevole Federico che aspira a diventare sindaco, lo sentiamo. Sindaco si aspettava questo strappo del partito dei siciliani, ex MPA? La sorpresa c'è perché una cosa del genere non si era mai vista in nessuna parte credo del mondo, è una cosa che sorprende tutti perché non ha sicuramente né una logica politica né una logica amministrativa, ovviamente legata solo a fatti elettorali, tant'è vero che non ci sono stati incontri, non ci sono problemi che riguardano programmi o accordi di altra natura, quindi la prendo per quella che è, non c'è dubbio che devo dire che sono sorpreso, ma io continuo a credere nella politica che ho portato avanti, che è quello del rapporto sincero con i cittadini, quello trasparente che mette al centro le esigenze della comunità e non quelle personali. Io spero di poter avere un confronto presto con l'ex MPA per capire quali sono i motivi o quantomeno per fare sapere alla città quali sono i motivi che hanno portato a questa rottura. Per adesso vero sono motivi di carattere elettorale. Ma secondo lei allora cosa si è incancrenito nel rapporto tra voi, tra lei soprattutto e l'MPA-PDS? No, non parlerei di incancrenito assolutamente perché devo dire che non ci sono stati scontri di carattere personale, non ci sono stati scontri di carattere amministrativo. Credo che, lo hanno anche detto alcuni rappresentanti di questo partito, come quando c'è la scadenza o nello yogurt, come quando uno si trova a fare un accordo dove compra qualche cosa, siccome finisce il mandato, siamo liberi di fare quello che vogliamo, come se l'interesse personale, come l'accordo fosse finalizzato a qualcosa di personale. Mi dispiace aver avuto accanto per anni magari questo tipo di alleati. Sono da questo punto di vista veramente sorpreso, lo devo dire perché no. Raffineria, agroverde, illuminazione, lavoro, che è la cosa più importante, è l'emergenza sociale. Possono lasciare il spazio all'assessorato o alla logica cosa faccio fra qualche mese o cosa fa quell'altro? Secondo me no. Io vado avanti con questa logica politica che mette al centro la prospettiva e le esigenze della città. Tutto il resto non mi interessa, chi non ci vuole stare lasci pure. Agenda individuata o esistituti? Lo faremo entro 24 ore, lo faremo immediatamente. I due sostituti saranno del PD? No, non c'è un problema di PD, non c'è un problema politico. Dobbiamo, per quello che resta, riuscire a mettere forze nuove e dare il massimo per rilanciare ogni giorno. Mi auguro che almeno non esca l'onorevole Federico candidato perché sarebbe l'ennesima sorpresa e già ne abbiamo avute tante. Non credo che serva altro tipo di logica. A Ferragana e a Leo che sono andati via, cosa dice? Un ottimo rapporto che ovviamente in questo caso viene leggermente, ci ho avuto una delusione da questo comportamento anche perché mi sarei aspettato almeno delle dimissioni motivate. Abbiamo lavorato ben insieme e la logica che per lungo tempo e fino a poco tempo fa ci ha animati era sicuramente la logica giusta. Mi dispiace per loro. Io credo molto nel rapporto umano, credo molto nella linearità e questo. Mentre sono sorpreso del fatto politico, sono un po' deluso del fatto personale. In merito alle dimissioni di Ferragana e da Leo, l'assessore comunale Ugo Costa, rappresentante del partito dei siciliani ex MPA, in una nota scrive che nel 2010 come partito abbiamo fatto un patto elettorale con il PD e il sindaco Angelo Fasulo e la gente per questo ci ha votato. Oggi, a due mesi dalle elezioni, ci dovremmo tirare indietro per proporre un percorso di rottura con l'attuale sindaco. A questo modo di operare ho detto no nella riunione che abbiamo avuto la settimana scorsa. Credevo che il periodo di riflessione dato ci portasse a un ripensamento, cosa che invece non è avvenuta. A mal in cuore, considerato che a questo gruppo sono legato non solo per la politica ma anche per un sincero rapporto di amicizia, mi vedo costretto a dire no a questa scelta. I motivi fondamentali che mi hanno indotto a fare questo passo, scrive ancora Costa, principalmente sono due. Prima di tutto la coerenza verso gli elettori che nel 2010 hanno scelto e votato questa squadra ed è giusto così come allora che oggi ci sottoponiamo al loro giudizio elettorale. In secondo luogo i cittadini ci chiedono trasparenza e linearità politica e le dimissioni non giovano alla semplificazione del quadro politico gelese, ma tende a portare la città verso orizzonti poco chiari che sicuramente non aiutano nel nostro territorio. Conclude Costa con coerenza e linearità politica, mi presenterò al giudizio degli elettori sulla base del lavoro svolto fino ad oggi insieme ad Angelo Fasulo. Adesso occupiamoci di refezione scolastica a Gela, non si esclude che venga proclamato lo stato di agitazione. Secondo la Filcams CGL la cooperativa che gestisce il servizio non rispetta le norme vigenti. Vediamo. L'amministrazione comunale di Gela ha l'obbligo di verificare se il consorzio che gestisce il servizio di refezione scolastica in città rispetta il bando di gara e se tutte le norme vigenti sono rispettate. Il sindacato metterà in campo tutte quelle iniziative più opportune non escludendo azioni di lotta. È quanto deciso ieri nel corso dell'assemblea promossa dalla Filcams CGL nei locali di Via Pitagora. Per il segretario provinciale Emanuele Scicolone non c'è più tempo da perdere. Questo consorzio di fatto ha messo subito in atto una serie di azioni discriminatorie nei confronti di alcune lavoratrici. Nel frattempo abbiamo chiesto più volte che venissero date alle lavoratrici gli indumenti normali previsti per legge. Abbiamo chiesto che si facessero le dovute formazioni in termini di sicurezza perché queste lavoratrici maneggiano del cibo e quindi deve essere fatto tutto a norma perché è molto delicato come servizio. Abbiamo chiesto che le lavoratrici venissero messe in condizione di poter avere un'autorizzazione per questo tipo di attività che è il riconoscimento dell'HCCP e quindi si fa attraverso la formazione e quindi un riconoscimento. Tutte queste richieste che noi abbiamo fatto sia all'azienda e poi successivamente abbiamo anche denunziato presso l'assessorato alla pubblica istruzione e quindi anche al sindaco. Abbiamo chiesto di intervenire per vigilare che venissero rispettate tutte queste normative previste per legge e ad oggi niente è venuto in questa direzione. Lamentiamo anche il fatto che il servizio è iniziato a fine ottobre, siamo ai primi di marzo e le lavoratrici hanno avuto un misero acconto di 250 euro circa e basta. Non escluso, se non si riverà prestato una risoluzione del problema, di proclamare lo stato di agitazione è probabilmente di bloccare il servizio. Se non si dovesse mettere mano ad aggiustare le questioni che noi abbiamo denunciato a quel punto non darà più responsabilità nostra ma darà responsabilità di altri che fanno rischiare di mettere a rischio questo servizio importante. Incidente stradale questa mattina in Via Palazzi a Gela nei pressi del cimitero monumentale per causa in corso di accertamento un giovane in sella a uno scooter Piaggio Liberti è finito contro un'autovettura Fiat Panda. Il Centauro, uno studente di circa 18 anni, è finito a terra dolorante e illeso invece il giovane che guidava l'utilitaria. Sul posto i vigili urbani e gli agenti del commissariato che hanno transennato la strada deviando il traffico veicolare. Lo scooterista è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza del 118 secondo le prime notizie non dovrebbe avere riportato nulla di grave. La polizia indaga sull'incendio che si è registrato ieri sera in Via Taranto nel quartiere Caposoprano. Il fuoco ha danneggiato un camper appartenente ad un uomo che vive nelle vicinanze del luogo in cui si è sviluppato l'incendio. Il boato generato da una bombola all'interno dello stesso camper ha fatto scattare l'allarme. I residenti si sono riversati in strada. Indagini invece sono state avviate dai carabinieri per il ruogo che ha completamente devastato un'abitazione rurale in contrada Priolo. Cambiamo decisamente argomento. Grande successo per l'inaugurazione della mostra di oricalchi ieri al Museo Archeologico regionale di Gela. Con le autorità abbiamo affrontato il delicato tema del mercato illecito dei beni archeologici. Vediamo. L'inaugurazione della mostra di oricalchi ieri al Museo ha registrato una straordinaria partecipazione. E se da un lato si cerca di valorizzare il patrimone archeologico di inestimabile valore, dall'altro c'è chi con deprecabile atteggiamento devasta lo stesso patrimonio scavando illegalmente e vendendo gli stessi beni rinvenuti al mercato nero. Così come è accaduto giorni addietro in provincia con una organizzazione criminale sgominata dai carabinieri. Il problema è un problema anche questo purtroppo storico, però dobbiamo lasciare alla criminalità il commercio, la scoperta e la commercializzazione illecita di ciò che può essere una ricchezza per la vita di tutti i cittadini. Assolutamente no. Si investe pochissimo anche nella ricerca dei reperti e così si lascia spazio alla criminalità. Invece forse bisognerebbe che la politica investisse di più. Allora io penso che come tutti i settori nei quali c'è bisogno di conoscere, c'è bisogno di programmare, c'è bisogno di costruire, si debba creare una strategia nella quale le istituzioni facciano veramente la propria parte. E' chiaro che la ricerca archeologica, noi abbiamo tra l'altro, proprio in questo momento ci sono ancora campagne di scavo, ci sono campagne di scavo sull'acropoli, c'è l'università credo di Messina impegnata su questo fronte. Ecco, queste sono iniziative importanti, interessanti e che vedono presente le istituzioni. E' chiaro che Gela è ricchissima da questo punto di vista e quindi gli investimenti nel settore penso siano assolutamente doverosi in una prospettiva futura. Recentemente è stata scoperta una grossa fetta di mercato illecito all'interno del quale venivano scoperte e poi vendute delle opere. Ma come si fa ad intercettare quelli che sono i tombaroli, una vera piaga per il nostro territorio e soprattutto poi la vendita? Chi acquista queste opere? Com'è possibile trasferire delle opere così importanti senza che nessuno si accorga di nulla? Io mi fermo a quello che la Guardia di Finanza può fare con i nostri elicotteri. Può capitare che durante delle missioni di sorveglianza del territorio appositamente disposte per sorvegliare i suicidi archeologici si trovino degli scavi in atto. Quando così non è, allora ci sono le indagini che i nostri reparti territoriali, per la provincia di Caltanissetta e il collega Sozzo fanno coordinati dalle procure oppure di iniziativa. Purtroppo per un verso, per questo verso diciamo dell'onere di controllo, il territorio offre tali e tante di quei siti da vigilare che è impossibile materialmente riuscire a dare copertura totale. Certo è che nell'attività di controllo del territorio che svolgiamo noi come anche le altre forze dell'ordine è chiaro che nelle minate aree si dà anche attenzione da questi aspetti. I giovani di Gela riscoprono interesse e passione per la storia della città del Golfo. Ieri occasione di riflessione ad un evento nel quale era presente anche la stampa straniera. Vediamo. L'inaugurazione della prestigiosa mostra di Oricalchi, unica al mondo avvenuta ieri al Museo Archeologico Regionale di Gela, è stata occasione per centinaia di giovani di profonda riflessione su ciò che può significare la gloriosa storia della nostra città e riflettere inoltre sulla inqualificabile e scellerata volontà dell'ISIS di attentare alle radici storiche dell'umanità disseminando terrore e orrore anche nei musei. Voi vi siete molto interessati anche a questa giornata e anche ai reperti unici al mondo che sono stati rinvenuti nel nostro mare e che raccontano per tutti i libri di storia tantissime cose. La presenza in massa degli studenti è importantissima proprio per questo perché non solo ci riappropriamo del nostro futuro ma anche grazie al nostro passato. Infatti la presenza di reperti tali a Gela fa comprendere la forza che ha avuto Gela nel passato e che deve recuperare per il futuro. Proprio per questo oggi siamo qua a vedere gli oricalchi che presentano infatti la presenza a Gela di una zecca quindi l'importanza che ha avuto nel passato e per questo che deve recuperare. Come reagisce un giovane alla visione di un video che vede questi terroristi dell'ISIS distruggere il passato dell'umanità? Qual è il vostro sentimento immediato? Personalmente io non ho nemmeno più mangiato dopo aver visto tale distruzione perché non è una distruzione soltanto della persona, è una distruzione interiore cioè distruggere il proprio passato anche perché in realtà è una religione oramai scomparsa nessuno celebra più quei culti quindi perché distrugge? Non rappresentavano nulla, rappresentavano re, personaggi importanti del periodo era la nostra storia perché proprio in quelle terre è iniziata la nostra umanità quindi perché questa distruzione? Perché arrivare a tanto? Tanta indignazione e amarezza quindi? Naturalmente e pensare che potrebbero arrivare a prendere piede anche in Egitto e distruggere tali opere importanti. Cosa fanno? Arrivano il Giza e fanno scoppiare le piramidi o la sfinge? Quindi l'importante è far comprendere che tutto il patrimonio dei beni culturali mondiali è il nostro passato e da ciò si deve partire per il nostro futuro. A Gela ieri per l'importanza dell'evento è giunta anche da Monaco una troupe di un giornale. This is an important day for Gela. Are you a journalist from? I'm coming from Munich, Germany, yeah. And I know that it's an important day because I'm writing an article about the founds, about these ingots and as well about the history... Entusiasti e meravigliati dalle bellezze di un tesoro di inestimabile valore ci hanno raccontato che sono a Gela per la prima volta e che di questo incantevole luogo conoscono la storia millenaria. Stanno realizzando un lavoro sui beni archeologici e paesaggistici di Gela. In vista del corteo delle donne non muos previsto a Niscemi per domenica 8 marzo prossimo sabato 7 alle 10.30 alla libreria Mondadore di Gela il comitato non muos incontrerà le mamme e le donne non muos di Niscemi per raccontare cosa voglia dire la partecipazione al femminile. Dopo la sentenza del TAR che ha confermato le ragioni dei comitati anche gli atti di questi giorni ribadiscono quanto viene ribadito da tempo il muos si legge in una nota può essere fermato soltanto dalla partecipazione in prima persona. Da martedì 10 marzo prossimo sarà attivato a Gela il servizio di raccolta ai commercianti del settore food dalla prossima settimana verranno distribuiti mille pieghevoli ai commercianti 500 verranno consegnati alla Confcommercio. Il servizio è così organizzato due vasche con due addetti dalle 22 alle 2 con la raccolta dell'umido nelle prime ore si effettua il servizio ai supermercati, frutti vendoli e bar per poi finire con i ristoranti. A giorni alterni si ritirerà la plastica una bivasca dalle 22 alle 2 si dedicherà alla raccolta del vetro e metallo direttamente nei locali commerciali. Il servizio sarà attivo dal martedì alla domenica. Ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, restate con noi a tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. È stato prorogato al 20 marzo prossimo il pagamento dei diritti annuali SIAE a carico dei pubblici esercizi che diffondono musica attraverso strumenti o apparecchi. Gli associati a Confcommercio Ascom di Gela potranno ottenere una riduzione fino al 30% sulle tariffe se il pagamento verrà effettuato entro la data stabilita. Il modulo per usufruire dello sconto può essere ritirato nella sede della Confcommercio Ascom in via Cicerone al numero 104 dalle lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. L'associazione Gela Famiglia ha redatto un libretto dal titolo Credere nella famiglia e costruire il futuro. La pubblicazione realizzata con il contributo del CESVOP è dedicata alla città gelese e alle persone che in modo diverso sono impegnate affinché Gela possa crescere in un clima di relazioni familiari. Il libretto appartiene alla città e al suo interland. Racconta soprattutto attraverso immagini dell'impegno dei soci volontari di Gela Famiglia nel territorio. Raccontare torna utile per motivare sempre più e meglio le ragioni di una scelta associativa. Conclusa con successo la quinta edizione del progetto smerendiamoci la vita finalizzato all'educazione ed una corretta alimentazione. L'iniziativa è stata promossa dall'Ade di Gela. Vediamo. La prevenzione comincia già dai banchi di scuola. Stiamo parlando di diabete e la scuola Salvatore Quasimodo apre le porte a questa associazione che tanto fa nella nostra società. Sì, in realtà è una collaborazione che va avanti con l'associazione Diabetici Escolo da diversi anni e quest'anno si concretizza con questa nuova iniziativa smerendiamoci la vita 5. È un progetto che coinvolge due classi della nostra istituzione scolastica, due classi prime, ed è un progetto che intende non solo prevenire, come diceva lei, il diabete ma soprattutto delineare un percorso di educazione all'alimentazione nel quale attraverso un itinerario che i ragazzi possono toccare con mano cioè possono toccare con mano le varie fasi, le varie tappe di questo itinerario riscopre alla luce appunto di principi salutistici le tradizioni alimentari e dei prodotti anche dei prodotti nostrane, dei prodotti della nostra tradizione. Assessore, i percorsi virtuosi nella vita cominciano certamente a partire dai banchi di scuola e la scuola non può essere soltanto didattica e organizzazione ma deve essere anche educazione alla salute in primo luogo Certamente, veramente siamo orgogliosi per il fatto che la scuola Quasimodo retta dal preside tedesco abbia accolto favorevolmente un progetto formativo importante perché salutare quanto le associazioni di volontariato come quella che ha operato in questo senso aiutano, sostengono la società civile in questa direzione anche la pubblica istruzione, l'assessorato della pubblica istruzione e l'amministrazione tutta non può che essere diciamo favorevoli a questi percorsi formativi. Quali sono gli errori più gravi che commettono gli adolescenti quando stanno a tavola? Bisogna essere informati e formati su quale è la corretta alimentazione quindi i ragazzi dovrebbero sapere effettivamente quello che mangiano le sostanze che contengono e anche sapere un po' perché molte volte i ragazzi nel supermercato comprano determinati elementi che hanno delle sostanze un po' non corretti e quindi bisogna un po' evitare questa alimentazione scorretta. Cosa hai imparato tu in questo progetto? Ho imparato che avere una sola alimentazione è una cosa molto molto importante. L'Ufficio Agricoltura del Comune di Gela informa alle associazioni venatorie e ai cacciatori che il termine ultimo per la consegna dei tesserini venatori è fissato per il prossimo 1 aprile. Entro quella data bisogna consegnare tesserini venatori dopo averli accuratamente compilati nel riepilogo finale per non incorrere nelle multe previste dalla legge e la consegna si effettua presso l'Ufficio Agricoltura del Comune al settore istruzione e ambiente in Viale Mediterranea al numero 41. Avranno inizio il prossimo 16 marzo i corsi di formazione per addetti e proposti montaggio e smontaggio ponteggi. Il corso, che avrà una durata di 26 ore, si prefigge di fornire i principi fondamentali sulla sicurezza sul lavoro e di consentire a preposti e addetti l'apprendimento di tecniche teoriche e pratiche adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza e le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione, lo comunica Casa Artigiani del Golfo di Gela. Poesie e canzoni è il titolo del primo libro del nisseno Giuseppe Mirisola presentato nell'aula magna dell'Istituto Mottura di Caltanissetta, una raccolta di poesie in dialetto siciliano che possono essere musicate e che hanno quindi dato spunto al titolo del libro. Tra i temi predominanti della raccolta, composta in tutto da 187 poesie, l'amore e la passione. Ma parla un po' della mia vita, del mio vissuto, le mie conoscenze, i miei amori, i miei sentimenti e le mie passioni, non soltanto le mie, ma anche quelle degli altri, perché lei mi insegna che uno scrittore praticamente vede qualcosa e crea subito un guadletto. ed io effettivamente sono così il portato a scrivere di molto, così timido, ma non immediatamente, molte volte cammino, vedo, vedo un viso e in quel viso effettivamente cerco, cioè dire, vedo tante cose. E non appena ho cinque minuti, un momento di raccoglimento praticamente, perché non dimentico più quelle cose che io ho visto. e immediatamente dopo, o comunque non appena mi scatta la vena, però comincio a scrivere ciò che i miei sentimenti hanno raccolto intorno a quel viso, intorno a quell'azione, intorno a quel patto. Però questa è la mia poesia, è una poesia non mirata semplicemente in sostanza a creare la rima, perché la rima si viene spontanea, così come spontaneo effettivamente il pensiero, e poi nel sogno, il sogno effettivamente è qualche cosa di particolare nei miei sentimenti. E queste sono alcune poesie che ho raccogli, cioè dire che ho fatto adesso ho tentato di raccogliere, e le altre che ne ho scritto di recente, ma ci saranno, ci sono un altro libro già in, 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 in lettura di arrivo. Certo non è così, così, non ci sono tante poesie come adesso, ma saranno circa, insomma, c'è un altro libro in arrivo. E oltre a questo sto preparando qualche cosa sul teatro che avevo abbandonato. Siamo all'informazione cinematografica e Selma, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella, Gela, 3 gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17 e 30, 19 e 30 e 21 e 30. Partirà domani la stagione di Cabaret alle 21 e previsto lo spettacolo di Gennaro Calabrese. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi fin qui e arrivederci a domani. Grazie per la visione!